Perchè il rinvio di queste elezioni accoglie al Metauro? Allora, la richiesta del rinvio è legata principalmente al fatto che siamo in una situazione anomala, perché noi ci troviamo in un comune, sotto giudizio, è stato fatto un esposto, una ricorsa al Tar delle Marche da parte dei cittadini di Montemaggiore, tramite l'associazione Montemaggiore Resiste, dove si chiede di entrare nel merito della questione fusione. Sappiamo gli eventi che hanno portato a questa fusione, sappiamo che un no è stato chiaro ed è stato quello dei cittadini di Montemaggiore, ma comunque la fusione è stata fatta. Quindi, in questa situazione anomala per quanto riguarda lo Stato di diritto, si chiede di attendere che i giudici facciano il loro iter, che i giudici emettano la loro sentenza e dichiarano se effettivamente il comune è legittimo oppure no.